Ecco, allora come dicevamo queste sono sempre delle immagini dei soliti aerei, però almeno questo video è un po' più lungo, quindi non si oscura come abbiamo fatto nel video. Comunque, questi sono dei bei aerei come Lufthansa, Fly, Scott, Eater, Waze, specialmente la compagnia di bandiera, ma ora facciamo un paragone fra tutte queste compagnie. Ne parliamo anche in un altro video di una ventina di minuti, che riusciremo a fare con diverse immagini, ne parleremo meglio, ma la compagnia migliore ovviamente fra queste e i Emirates, perché ha questi motivi, che non è che perché una compagnia si paga tanto e allora è buona, ma la compagnia deve essere buona solamente se è vera la qualità. Poi c'è Iberia, Lufthansa, Swiss Air, quelle sono delle stupende compagnie, però quella da sempre da scegliere è la Emirates, che lasciate stare tutte le compagnie aerei, si fanno pagare, no? Però c'è anche quella low cost come EasyJet o Reiner, Waze Air, queste compagnie un po' più così, quando invece c'è una Swiss International, una Lufthansa o una Ita & Waze, ecco, proprio ora a fare l'esempio dell'Iberia. Un Emirates, come già ho detto, si fanno pagare tanto, però sono delle compagnie che offrono la qualità. Da premettere che tutte le compagnie di bandiera si fanno pagare tanto, ma ne parliamo meglio nel prossimo video.